La priorità numero uno è riattivare il trasformatore di Times Square prima che salti la corrente in tutto il quartiere. Posso guidarti nelle riparazioni? Penso. Spero. Cristo. Con ordine. Prima dobbiamo disattivare manualmente e contoppiamo intendo sempre per il. Lo so che sembra sbagliato ma devi fidarti di me. Prima dobbiamo disattivare. Prima dobbiamo disattivare il suo abitore. Il suo preso! Non potete bartervi! L'uomo di l'armi! Basta l'interruttore, giuro, vai. Ok, hai staccato la corrente. Ora puoi lavorare su quel trasformatore senza farti friggere. Mi spiace Rhodes, devo assumere il controllo della missione. Prima che saltassero le telecamere, ho identificato i cadaveri. Erano agenti della divisione. Agente, prima di continuare dobbiamo capire cosa è successo. Di i soliti federali. C'è una stazione di polizia in zona. Ti invio le coordinate. Dovrebbe avere i filmati di sorveglianza della metropolitana. Fa attenzione. Con tutte le sparatorie che attirano l'attenzione dei rachers, avrai una croce rossa dipinta sulla schiena. Un bersaglio prezioso come te non se lo lasciano sfuggire. Fate uscire quel coglione. Mi resta poco da me. Merda, devo ricaricare. Presto, sarà tutto finito. Tutto finito. Attenzione. Rilevati altri nemici. Sto diventando bravo. Sto diventando bravo. Sto diventando bravo. Speriamo rimarrerà nascotto. Sto diventando bravo. Sì, vado a tutti i palacchi! Vado a fuori! Vado a fuori! Uccidetele tutti! Vado a fuori! Ok, esamino i filmati per trovare gli agenti. Puoi tornare a occuparti del trasformatore. Avrà finito sul serio, perché noi non è che stiamo facendo roba importante. Per risolvere il nostro problema ci serve un nuovo quadro elettrico. La Warringate, la società elettrica, ha mandato degli uomini per le riparazioni, ma ne ha perso le tracce. Quindi le riparazioni non sono mai avvenute e i pezzi, compreso il quadro, sono ancora nel furgone. So all'incirca dove si trova, quindi... se ci sei... Non può andare a fuori! No! È partita! Devo riuscire, fai un fuoco! No! Non può essere approcato... Aspetto a un'area. I tras arrestatori saranno perseguiti. No! Non posso muovermi! Hai idea di cosa significhi per me? Dovrai collegare il quadro elettrico al trasformatore. Ti indico io il punto. Se ci va bene funziona. Times Square si riaccende e si riempie di nuovo di turisti armati di macchine fotografiche. Non sollevare con la schiena. Se ti viene il colpo della strega non puoi rivolgerti a nessun sindacato. Non sollevare con la schiena. Noi! Pagliare! Pagliare! Non sollevare! Non sollevare! No, no, no! E' partita! Non lasciamoci catturare! Chi siamo? Non farcela! Non farcela! Non farcela! Non farcela! Non farcela! Non farcela! Ons expansioni! Lamenti! Sheity che spettano! 옛ittata! Wiec! L'hanno preso! 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 Ecco l'occasione! Cazzo! Dammi una mano! Mela indietro! Siamo di nuovo in pista! La rete elettrica è stabile e le luci sono accese. Quelle a cui non hanno sparato, si intende? Times Square è tornata quasi come prima. Significherà molto per un sacco di gente.